Leonardo Silva Revisoree Questo è il nostro mondo, il mondo che vogliamo conoscere, che vogliamo conoscere per avere una possibilità di vivere meglio, di vivere più felici, perché questo è quello che vogliamo tutti. Ma per poterlo conoscere dobbiamo studiarlo. E per poterlo studiare dobbiamo misurare il mondo che ci circonda. Quindi il mondo che noi vogliamo conoscere, il mondo che però vogliamo studiare. E studiare il mondo vuol dire misurare il mondo. Misurare il mondo è quello che è stato sempre fatto dai cartografi. La cartografia si è da sempre occupata della misura del mondo. Della misura del mondo prima e della sua rappresentazione dopo, perché lo possiamo conoscere. Questa misura del mondo per tanti secoli è rimasta invariata. Vedete due immagini molto diverse tra di loro dal punto di vista temporale, ma le misure del mondo venivano fatte sempre da terra. Dopodiché, a partire dall'inizio del secolo scorso, abbiamo cominciato a volare, gli esperimenti dei fratelli Wright all'inizio, abbiamo cominciato a prendere le immagini del mondo da sopra di noi. Prima gli aerei, poi i satelliti, 1957 Sputnik. Adesso sta iniziando una nuova era, l'era degli unmanned aerial vehicles, UAV, quelli che molti chiamano in modo più semplice droni. Ma torniamo per un attimo ai satelliti che sono la realtà di oggi. L'ultima immagine che vedete in basso a destra è un satellite, il satellite Worldview 3. Worldview 3 è un satellite che vola abbastanza basso, vola circa 600 chilometri d'altezza rispetto a noi, che ha molti sensori e tra questi sensori un sensore particolare che è una camera fotografica. È una camera fotografica con la quale, come diciamolo scherzando, la Terra si fa i suoi selfie. Queste immagini sono immagini del tutto particolari e spettacolari, perché da quell'altezza riusciamo a riprendere il mondo con un dettaglio dell'ordine dei 30 centimetri. Quindi un qualsiasi oggetto sulla superficie della Terra che è più grande di 30 centimetri viene ripreso da Worldview. Però Worldview non è l'unico satellite che monitora la Terra. Qua vedete un'immagine della Terra circondata dai suoi satelliti artificiali che sono operativi. Quindi non sono tutti corpi che orbitano intorno alla Terra in cui dovremmo aggiungere i debris, i satelliti che ormai non sono operativi e così via. Sono solo quelli operativi, ognuno di loro ha moltissimi sensori e quindi c'è un monitoraggio in tempo reale della nostra Terra. Però quello che dobbiamo dire è che queste immagini non sono immagini immediatamente utilizzabili da noi per mappare il mondo, perché per quanto abbiamo dei computer molto intelligenti, il computer non è ancora e probabilmente non sarà mai intelligente come l'uomo. Per cui abbiamo bisogno ancora degli uomini che mettano i loro occhi e la loro mente su queste immagini per poterle interpretare. Allora la cartografia è cambiata tantissimo negli anni per quanto riguarda le tecnologie, ma è cambiata anche moltissimo la sua mission. All'inizio la cartografia è una cartografia costruita per scopi militari o per scopi catastali, quindi per poter mappare il mondo e imporre della tassazione legata alla proprietà. Poi a partire dagli anni 70 le cose sono cambiate e si è cominciata a utilizzare la cartografia anche per scopi diversi, ad esempio scopi di pianificazione, progettazione del territorio e così via. Ma la vera rivoluzione è undici anni fa, 2004. Nel 2004 nasce questo progetto che si chiama OpenStreetMap e l'ideatore è questo allora ragazzo che vedete qua, Steve Cost, allora neolaureato di informatica a UCL, University College of London. Assieme ai suoi amici, Steve comincia a portare avanti questo progetto che è il progetto della mappa libera del mondo. L'idea fondamentale di Steve e dei suoi amici, idea che attecchisce immediatamente a livello globale, soprattutto grazie a un movimento, al movimento dei sistemi informativi e dell'informazione geografica libera e a codice aperto, open source, che fanno subito proprio questa idea e da pochi contributori all'inizio del 2004 si passa oggi a un numero di contributori che supera i 2 milioni, 2 milioni di persone in giro per il mondo che mappano la nostra terra. Quali sono le idee fondamentali di Steve e di OpenStreetMap? La prima idea è che l'informazione geografica, quella che una volta era la cartografia, che adesso, detta in termini moderni, si chiama informazione geografica, informazione geografica sta diventando pervasiva. Sempre più gli eventi, i fenomeni che accadono a livello mondiale sono eventi e fenomeni che trovano la loro contestualizzazione, il loro significato, si sono collocati dal punto di vista spaziale. applicazioni pratiche, la navigazione con le nostre macchine, che ormai facciamo con i navigatori satellitari e con le mappe, la navigazione individuale, che diventerà sempre più importante, i servizi basati sulla localizzazione nei quali siamo solo all'inizio. Ma la seconda idea importante è che se noi vogliamo poter utilizzare questi dati, se vogliamo che questi dati siano dati liberi, allora questi dati dobbiamo crearceli da noi. Quindi, a questo punto, il motto forte di OpenStreetMap è che OpenStreetMap è la mappa creata da persone come te per essere usata liberamente da chiunque nel mondo. E come si può creare queste mappe? Lo si può fare individualmente, ma è molto più divertente, è molto più bello farlo tutti assieme. E allora possiamo organizzare quelli che sono i mapping parties. E quindi questa è la prima parola che voglio che impariate. Mapping parties vuol dire ritrovarsi tutti assieme e mappare. Mappare con uno scopo. Ad esempio, quello che vedete in questa immagine è un mapping party a Osaka per costruire la mappa della resilienza. Quindi cittadini, scienziati, amministratori, membri della protezione civile locale e così via, si trovano, girano per la città, individuano quali sono i punti che dovranno essere utilizzati nel caso di emergenza, quali sono i punti che potrebbero presentare difficoltà e così via, creano la mappa della resilienza. Il motto è mappare il mondo. Però voglio raccontarvi anche un'altra storia a questo punto, la storia di Haiti, del terremoto di Haiti, quando un terribile terremoto distrusse Haiti. E allora a questo punto si doveva intervenire, ma per poter intervenire bisognava conoscere come muoversi in un territorio la cui morfologia era cambiata a seguito del terremoto. A questo punto alcuni gruppi legati a OpenStreetMap ebbero quest'idea, ottenere delle immagini satellitari ad alta risoluzione per mezzo di intercessione di organizzazioni internazionali, mettere queste immagini sulla piattaforma di OpenStreetMap, che è una piattaforma dal punto di vista tecnologico molto avanzata, perché infatti vi ricordate che Steve Cost è un informatico, vi ricordate che tutto questo nasce nell'ambito dei software geografici libero e a codice aperto. Quindi la piattaforma è molto complicata, ma il suo utilizzo è molto semplice, può farlo chiunque, non bisogna essere dei nerd. La piattaforma è a prova di bambino, o meglio, forse, a prova di nonno. Allora a questo punto vengono messe queste immagini nuove di Haiti modificata su questa piattaforma e viene lanciata una call a livello mondiale. Tutti i volontari si mettono a mappare. In poche ore la mappa di Haiti è pronta. È una mappa importantissima, che serve per capire come muoversi sul territorio e che serve in definitiva per salvare delle vite. Dopo questo si sono costituite task force in giro dappertutto nel mondo e ogni volta che c'è un evento catastrofico tutti i volontari si mettono a mappare per poter costruire il nuovo assetto del territorio. Ma non dobbiamo andare tanto lontano per fare queste cose. Nell'immagine che vedete è descritto quello che è successo qui, proprio a Como, al Politecnico di Milano, questa primavera a seguito del terremoto del Nepal. Ci siamo trovati in tanti, abbiamo imparato come mappare tutti insieme e abbiamo contribuito anche noi a creare la mappa che è servita a tutti i volontari sul posto per poter intervenire. Ma in questo siete molto fortunati, devo dire, perché casualmente questo TEDx viene a coincidere con l'inizio della settimana della consapevolezza geografica. Una settimana che è stata decisa da tutte le organizzazioni di OpenStreetMap che gravitano intorno a OpenStreetMap. A partire dal 15 ci saranno tutta una serie di eventi in giro per il mondo, almeno 100, eventi di mapping che noi chiamiamo Mappaton. E questa è la seconda parola che voglio che impariate. Il Mappaton vuol dire trovarsi tutti in un posto, ognuno con un computer, perché questa è la cosa fondamentale, per mappare tutti insieme. Quindi, se siete interessati, giovedì prossimo, non tanto lontano da qua, a Milano, il Politecnico di Milano, faremo un Mappaton. Faremo un Mappaton e di cosa ci occuperemo in questo Mappaton? Se saremo così sfortunati che ci sarà qualche emergenza, dovremo occuparci di questa emergenza. Ma se invece saremo fortunati e in questi giorni non succederà niente, non rimarremo inoperosi, perché c'è un altro bellissimo progetto al quale potremo contribuire, che si chiama Missing Maps. Il progetto Missing Maps è un progetto che si occupa di quelle aree del mondo che sono aree dimenticate, ma che sono aree fragili. Fragili a causa delle catastrofi naturali o di altro tipo che possono abbattersi su queste aree. Ma di solito sono anche le aree più povere del mondo e quindi non hanno le infrastrutture e la strumentazione come abbiamo noi. Allora, a questo punto, quello che possiamo creare in questi Mappaton sono le mappe di queste aree dimenticate del mondo per essere pronti nel caso dovesse succedere qualsiasi evento catastrofico. Questa comunità, questa grande comunità e generosa comunità formata soprattutto da volontari, non si occupa però soltanto del mapping in preparazione dei disastri o durante i disastri. Vogliamo fare qualcosa di più? Vogliamo anche avere un occhio positivo rispetto a quello che succede? Ma allora ci sono anche molti altri modi per poter contribuire al mapping del mondo. Per mancanza di tempo ve ne cito soltanto due. Il primo, la biodiversità. Biodiversità soprattutto in ambito urbano. Non dobbiamo pensare che la biodiversità sia soltanto in posti lontani che non conosciamo. Esiste anche una biodiversità molto vicina a noi e noi dobbiamo imparare a conoscere, apprezzarla e tutelarla. Questo progetto, Urban Gen, è un progetto del Politecnico federale di Lausanna ed è un progetto nel quale si chiede a tutti i collaboratori, è sufficiente avere un computer per poterci accedere, di inserire quelli che sono i dati sulla biodiversità nell'area intorno a Lausanna. Il secondo progetto di cui vi voglio parlare invece è un progetto di casa nostra ed è un progetto a questo punto invece di tipo culturale e turistico, ma un turismo di tipo diverso, un turismo che si chiama Slow Tourism. Lo Slow Tourism è un qualcosa di simile allo Slow Food, è un utilizzo del territorio che sia un utilizzo consapevole. Quello che vogliamo fare è non aggredire il territorio, ma muoverci in modo lento sul territorio, muovendoci in modo lento sul territorio, quindi camminando, andando a cavallo, andando in bicicletta, si ha modo di guardarsi intorno. E guardandosi intorno si ha modo di capire quelle che sono tutte le ricchezze del territorio che ci circonda, magari delle piccole ricchezze o magari delle ricchezze che sono ricchezze per noi, per i nostri amici, sono valori per noi e magari altri non hanno considerato. Oppure si può cominciare a vedere se ci sono delle emergenze sul territorio e cominciare a segnalarle. Tutto questo viene riassunto in un progetto, che è un progetto alla sua fine, che si chiama il progetto I cammini della Via Regina. La Via Regina è un percorso storico che parte dall'Italia per andare verso il nord Europa. Via Regina è una strada che già esisteva in epoca romana e che è stata percorsa da tantissimi personaggi. A partire dalla Via Regina, che corre lungo la sponda occidentale del lago di Como, si dipartono tantissimi sentieri e percorsi che vanno verso la Svizzera, percorsi trasfrontalieri che sono percorsi ricchi di cultura e di storia, attraversati nel tempo da pellegrini, da contrabbandieri, da persone normali come noi. In questo progetto, Via Regina, abbiamo voluto aggiungere anche una parte di mapping collaborativo. Quindi esiste una app che tutti voi potete utilizzare, andando sul sito di Via Regina, per andare in giro in questi territori, aggiungere le vostre informazioni sul territorio, in modo tale che queste informazioni siano immediatamente mappate e visibili da chiunque su un sito internet dove abbiamo una mappa collaborativa che cresce di giorno in giorno. In conclusione, come vedete, c'è tanta possibilità per poter partecipare a questi progetti di mapping assieme a noi. Una volta i cartografi erano quelli che partivano e andavano in giro per esplorare nuovi mondi e cartografare nuovi mondi. Adesso i cartografi possono stare a casa loro, possono stare nella loro città e portare a casa loro e nella loro città il mondo. E perché lo facciamo? Lo facciamo perché tutti insieme vogliamo disegnare un mondo che sia più libero,